Il centrodestra ha ormai quasi terminato l'assegnazione dei posti per le prossime elezioni politiche per Camera e Senato, sia per l'uninominale che per il proporzionale, anche se queste ultime in modo particolare potrebbero ancora cambiare delle cose in sede di ratifica nazionale. Ogni dubbio si scioglierà lunedì prossimo quando le candidature saranno depositate. Ciò che appare quasi certo è che saranno in corsa per un posto a Roma gli assessori regionali Laria Cavo e Marco Scaiola di Forza Italia e Edoardo Rixi della Lega Nord, qui si uniranno anche Carlo Fidanza e l'imprenditore Pierpaolo Pinsimbone per Fratelli d'Italia. In Casa Lega altre candidature potrebbero essere quelle dell'ex sindaco di Albenga, Rosi Guarnieri, dell'imperiese Monica Gatti, della consigliere regionale Stefania Pucciarelli. Spuntano poi anche i nomi di Ezio Capurro, Andrea Costa per Liguria Popolare e Marco Melgrati, che potrebbe essere candidato non in Forza Italia, ma con gli alleati di Noi con l'Italia. In conclusione per il momento i cavalli di razza del centrodestra favoriti al totalizzatore sono Marco Scaiola, Ilaria Cavo, Edoardo Rixi, Marco Melgrati e Pierpaolo Pinsimbone.